e benvenuti ragazzi di qua mamma e oggi siamo in un nuovo video e oggi siamo sullo speciale halloween ma senza cap 2.0 perchè ha avuto qualche problema di casa e quindi oggi siamo su zombie age si ma sta calmo quindi iniziamo subito eccoci qua ragazzi il gioco sembra molto ok con questo si spara ok con questo si fa l'arma attacchiamo questo come posso vivere ragazzi come posso vivere ragazzi cosa gioca con i zombie ok devo uccidere due zombie ma non so dove sono anche quelle sono le mie lezioni insomma molto facile questo è tutto così ok c'è un elicottero ok ok la nostra prima missione è compiegata mission complete ehm next vabbè intanto ci non faccio adesso facciamo un secondo livello un deploy ehm ok fatto posso anche inserire degli aiutanti no comunque vado da su lo vedete qua sotto c'è pubblicità morto pure loro chiuso riesco o un ingasione lonti i i i i devo usare le barra questi poiché scappa il tuo uomo è più Dio vai Dio santo Anche da dietro 14 secondi Rischio Via Ok 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 scappa scappa Non voglio morire Uuuh addirittura i missili Non ci ho visto più E qua ragazzi sono Stato un po' scemo perchè Vabbè Aspettate Zambi Morte Oddio ho sprecato una munizione a casa Vabbè abbiamo capito ragazzi che non lo so giocare a questo Doppio combo Mi stava più Più marzo Sì Vabbè Mi sembra Sì 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 è un po' di bia, è un po' di bia c'è qualcosa che vuole la bomba le balise? non c'è c'è un po' di bia la bomba le balise non c'è un po' di bia morì 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 perché ci siamo in onda questa mira di questa pistola va bene vi consiglio ragazzi anche zombie age 3 perché è ancora più figlio guarda un po' di caccia mi voglio sapere mi vuoi? no eddio ho solo due colpi perfetto molto of... lo so uccide tutti con questa proprio ma potrei andare all'infiltro con questo però mi vengono anche da dietro muori ehi, tre, due, effetto, quanto ne vuoi no, 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 ragazzi aspetta ok ragazzi, mi ce l'ho completata è stato un po' vero perché non so erano troppi zomi quindi non volevo fare la mia prima volta vabbè facciamoci aiutare con quelli no, con questo qui non c'è il combattimento dai, fiammi qua dimmi se puoi uccidere altri vai giù devo aiuto, voglio ragazzi, se avete visto c'è anche il canale di crafter 2.0 che ve lo metto in descrizione sarebbe questo stesso canale crafter 2.0 e manometro 2.5 noi abbiamo due canali diarsi quindi ve lo lascio in descrizione come se avete visto c'è anche il canale di crafter 2.0 che è tutto qui, aiuto una specie di mezzo umano mazzo zombie mazzo zombie non ne sto parlando oggi ma c'è, oddio, due rincontri non voglio perdere qua non possiamo perdere qua no, no, no rischio stavamo per morire tutti e due stavamo per morire tutti e due comunque ragazzi ehm uh se posso fare qualcosa un po' 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 ok ragazzi per oggi può anche bastare e noi ci vediamo nel prossimo video e nella prossima volta lo faremo con crafter 2.0 lui ci sarà sempre come al solito e ci vediamo al prossimo video video oggi non so proprio parlare e ci vediamo al prossimo video